a giudicare dei suoni potrei trovarmi in qualsiasi posto vicino a casa nel mio fare quotidiano ma la forza delle immagini mi trasporta poco più di mille chilometri da casa e trasforma radicalmente il modo di vedere le cose questi sono numeri che tipicano un posto e più di mille storie lasciate in standby ai margini dei confini belgrado a due passi dalla stazione un vecchio deposito di autobus fa da rifugio a circa 1500 persone mi avevano detto che questo posto veniva chiamato l'inferno e muovendo i primi passi tra le baracche capisco bene il motivo auto abbandonate con porte di velte altre coperte da teli trasformate in un riparo per la notte perché se no la soluzione più comoda è dormire a terra sotto quei tetti forati dai densi raggi di luce dopo aver osservato attentamente cosa mi circonda guardo le persone che in questo luogo ci vivono perché sono qua di dove sono quanti anni hanno sono tanti davvero e per la maggior parte uomini c'è chi arriva dal pakistan chi dall'afghanistan siria e altri luoghi ancora e se ascoltassi le storie di ognuno sarebbero tutte diverse ma con un fattore comune la fuga dalla loro terra per trovare un luogo dove il semplice desiderio di vivere e rispettare gli altri democraticamente non è un peccato mortale decido di entrare in una baracca un po titubante perché so che è casa di qualcuno ma non c'è un campanello o qualcuno a cui domandare se è permesso non c'è un pavimento ma terra battuta tra rifiuti e coperte tende e focolari fumanti crendo l'oraria irrespirabile qui mi ferma un ragazzo e mi invita a sedermi con i suoi amici non sa chi sono ma i suoi modi sono delicati per farmi sentire a mio agio passa qualche minuto e decido di farmi raccontare la storia mi chiamo Saraj Agbar e sono da Pachistana e mia educazione è una maestria di BBA sono 23 anni e ho lavorato in un'organizzazione con il nome di Polio con alcune persone americane e alcune dei paesi europei ma il mio paese e il mio paese e il mio paese e il mio paese sono persone che sono un'organizzazione con i suoi amici e qualcuno che mi creano che ci sono lavorano con i suoi amici perché sono non muslimi e sono muslimi allora ho ho detto che cosa è muslimi e non non è l'unico siamo tutti i suoi amici ma solo lavorare per la comunità Questo è il lavoro di comunità. Quindi mi ha detto che non funziona con lui. E ho chiesto di lui perché era il motivo. E' solo un caso. Era non-muslim, era cristiano, era hindu. Ho detto che molti persone vivono in Pakistan. Questi sono pakistani, ma ha la lingua, la cultura, la cultura, ogni tempo è diverso con lui. Io ho chiesto di Pashto, io sono muslim. C'è alcune persone, il Punjabi, c'è il Isai. C'è alcune persone, il Chattrali, c'è il Hindu. Questo non è un problema. Non è un problema. Ma abbiamo pensato alla comunità. C'è la comunità? C'è la comunità? C'è la necessità per il mio bambino, che mi farà un po' di cuore. E il Talibano mi ha detto, che venissero con 500 dollari. Se non venissero, che venissero. Che venissero. Quindi, dove venissero 500 dollari? Io non ho. Questo è un problema grande per me. Questo è il mio amore. E il Talibano, anche con lui. Io ho lavorato con il mio cuore. 3 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 4 giorni. Non moriamo nulla, non moriamo. Non ho la acqua, non ho alcun. Solo le montagne. Un'altra, 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 un'altra. L'altra, non è finita. Io ho una famiglia, ma non ho, perché io non ho una famiglia. perché io non ho una famiglia. Perché io non ho una famiglia. Perché io ho due figli, una una mia figlia e una una mia figlia. Io non ho una famiglia. E io ho anche fatto con la voce di Hungary. Mi ha giocato molto male. E' perché veni qui? Deporti dalla Serbia. La polizia mi ha giocato e mi ha giocato il mio mobile. Questo è il mio amore. Non voglio la nationalità. Non mi ha giocato la nationalità. Non mi ha giocato la parma. Solo viviamo in un paese, con le persone polizie. Non è il motivo. Siamo tutti umani. Queste persone sono lasciate ai bordi di una società che non ha tempo di fermarsi e capire cosa sta accadendo. E ne è dimostrazione l'ennesima presenza di un confine che divide le baracche da un cantiere della Eagle Hills, una società di investimenti privati proveniente dagli Emirati Arabi, che sta costruendo un nuovo volto di Belgrado che si affecerà sul fiume. Presto questo confine verrà abbattuto, come anche le baracche, per far spazio alle nuove costruzioni e ai lavori necessari. Ma nessuno pensa a dove finiranno queste persone e alle loro necessità, che di certo non vanno oltre alla sopravvivenza. Nei giorni inizio a capire come gira la vita nelle baracche e conosco i veri angeli in questo inferno. Non è lo Stato o le grandi ONG che ci si aspetta. Perché? Perché questo è un campo illegale. Quindi tutto ciò che viene fatto qua non è legale, ma ci sono persone umane che si organizzano e si adoperano per rendere migliore e dignitosa la vita in questo inferno. I volontari, giovani e meno giovani che si adoperano per dare ai rifugiati almeno i beni di prima necessità. Un'organizzazione di volontari prepara tutti i giorni colazione, pranzo, cena. Un'altra prepara attività ludiche da fare durante il giorno. Altri organizzano attività sportive. E c'è chi si ingegna per creare docce mobili da poter spostare in funzione delle necessità. Mi fermo a guardare questo truck shower e rimango stupito dall'organizzazione e l'attenzione di questi volontari nel fare le cose. Uno si aspetta aiuti buttati per aria che poi si rivelano controproducenti. Ma qui no. I gruppi di volontari si parlano, comunicano e si organizzano sul da farsi nonostante la loro provenienza da diverse parti del mondo. Qui in questa terra di qualcuno che però è stata lasciata a persone trattate come nessuno le regole sono all'insegnare il quieto sopravvivere. La maggior parte di queste persone è giovane, giovanissima e tantissimi minorenni. Le giornate trascorrono veloci e nonostante una vita che non può essere chiamata vita, vedo ragazzi giocare a pallavolo. C'è chi si è abbozzato un campo da cricket e con mazze palle procurate da volontari organizza un torneo. Mi sorprende notare come nonostante le migliaia di chilometri fatte a piedi, superando numerosi ostacoli e pericoli, queste persone trovino la forza di sorridere. Vedo nei loro volti una grande volontà di mantenere alta la dignità umana senza lemosinare pietà ad alcuno. Abdul me lo dimostra con una chiacchierata sulla sua vita. Il mio nome è Abdul Sabur. Sono da Afghanistan. Sono 26 anni. Quando ero in Afghanistan ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi Hungarian. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho lavorato per l'armi. 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 e ho lavorato per l'armi U.S. for l'armi U.S. la vampirea noi. e ho lavorato per l'armi U.S. e ho state expressifying 그 montaggio di km geliyor nel montaggio. e ho state fermare le mummbier. e ho assistito, dove l'armi U.S. virea va visitare le mucarini le carano è coincido in unI bolt il 겁니다. la tracks End institution ha detto si hanno chciato sulle laù costo di luonutare. e hoستnitamente, che potste vedere la acqua città, nulla da qui fine. e ho aspira ABOUTOLbereciare我很 muerto e ho sape niente fantastiche per l'armi U.S. non sape niente come per ed Täsi and I'm going to die without water and food and he said if you die, it's not my problem a lot of people die before you, you're not that special, I cannot come to the mountains but I walk a lot, I mean, and I walk a lot and I find the lights and I went there and from there I find the smuggler and I come with him again to Turkey, from Turkey I came to Bulgaria, I try a lot to, from Turkey to Bulgaria, but Bulgarian police they break my arm and they get our money and phones and clothes back, everything and they deport me back to Turkey, and in Turkey I went to the doctors and I asked for help, I said I need help because my arm is broke and they said do you have a passport or something, I said I don't have any passport, nothing with me, he said sorry we cannot help you and from there and I try to come again to Turkey, to Bulgaria, but I came to Sofia, when I came to the Sofia and I was on the Sofia and the smuggler house and police came there, when police came there and we, and we run, when we run, they catch us and they, when they catch us and they, and I said please don't beat me on this arm because it's broken, they said which arm, and I showed the arm and they start to beat me on same arm, I was, I was pulled down there and, and I was pulled down, Dazi and someone they call ambulance, when they call ambulance and, and I wake up and I said to police, you are very bad police, I never see bad people like you are, and they said we are bad people and they beat me again and they take me out from ambulance, and doctor he said he need to be on hospital and they said no, and from there they bring me to police station, from police station to close camp and I was on the close camp for more than 20 days and I came to open camp, but I decided to to leave Bulgaria, and from Bulgaria I came here, from here I try a lot to go to Hungary and Croatia, but Hungary there also I got a lot of beat, from Hungarian police and also from Croatia police and the, one day I, I succeeded to Croatia but they deported me back from Croatia to Serbia and they break my nose also and I'm here and I, and I, and I'm here and I also want to try again maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow, but now I don't know what we have to do and we just waste our time, I leave Afghanistan 16 months ago and I, and I'm here been eight months I have a family in Afghanistan, I worry about my family more than myself, I have a sister, brother, I don't know who will take care of them because my father, he's, he's, he's old and my mom, she's, she's, she's just down home we have a stupid culture, she cannot go from home, she doesn't do nothing, she, she really like to do something but she can do nothing in Afghanistan, I said, the people, they need to be safe, the people, they are not safe here, I mean I appreciate the volunteers, we have a lot of help from the volunteers, they're working so good here, yeah only volunteers, they take care of the refugees here, they are helping, I'm volunteering, they are helping, yeah people they need to know because there are a lot of people they don't know what's going on here, yeah dopo una lunga giornata di emozioni sempre nuove, un gruppo di ragazzi pakistani che vivono in una baracca invitano me e i miei amici a cena da loro non ci penso due volte e la sorpresa è grande, musica local, balli e una cena cucinata in un pentolone sul fuoco una semplicità e un'ospitalità che ci fanno sentire preziosi e unici, nessun confine religioso, culturale ma pura condivisione di emozioni che non hanno né razza né credo loro che non hanno nulla condividono tutto ciò che possono, vado a dormire con l'ennesima lezione di vita sembra non ci sia mai uno stop, mai una pausa il giorno ricomincia con Dani e Sandra, due giovani volontari di Barcellona che chiamano i miei amici a preparare sacchetti di provviste che saranno consegnati nella notte tra i boschi sul confine serbo croato dove 150 persone dormono cercando un momento fortunato per provare a oltrepassare il confine senza essere catturati dalla polizia da quello che mi mostrano e mi dicono diversi ragazzi, oltrepassare i confini può voler dire essere catturati e deportati in altre nazioni, se va bene quando va male la polizia gli ruba i pochi soldi che hanno, li rompono i cellulari e vengono malmenati i segni di quelle violenze sono ben visibili sulla loro pelle ecco Ciasid, a pochi chilometri dal confine con la Croazia non ho neanche il tempo di alzare la testa che il faretto sulla mia camera illumina una fila di persone pronte a ritirare i sacchetti di cibo preparati durante il giorno in 10 minuti la distribuzione è finita, tutto veloce per non farsi vedere dalla polizia per chi non lo sapesse tutto questo è illegale, quindi ci potrebbero arrestare i ragazzi dimostrano molta gratitudine verso i volontari e i dottori presenti per dar loro assistenza medica ci sono persone con le pieghe ai piedi per le lunghe distanze percorse senza mai cambiarsi manco i calzini dobbiamo allontanarci ora per non far scoprire dove si nascondono una volta a casa ci troviamo davanti a Comando Comando è un giovane rifugiato che da qualche mese vive sotto le cure di Dani e Sandra perché ha completamente perso la memoria e non riconosce più nessuno oltre a non capire il motivo per cui si trova in Serbia insomma una situazione assurda che dopo mesi di nulla si trasforma notando un sorriso formarsi sul volto di Comando increduli non capiamo ma sembra che lui stia proprio ricominciando a ricordare gli mostriamo quindi foto, video e lui riconosce volti e nomi di amici la gioia in questa stanza è indescrivibile l'ennesima conferma che non ci sono confini e a proposito dei confini purtroppo ancora alti lui è No Name ci tiene a coprirsi il volto col cappuccio per timore di ritorsioni da parte dei talebani sulla sua famiglia che vive ancora in Afghanistan mio nome è No Name e sono 21 anni e sono da Afghanistan e ho problemi in Afghanistan quindi un giorno persone venivano a la mia scuola uccidano tre ragazzi e una professione e le persone mi riconosce 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 in Afghanistan e le persone mi riconosce e le persone mi riconosce per me è difficile per me è un' difficile per me è una scuola e le persone mi riconosce per me è un momento un'altra scuola e la scuola e la scuola e ieri la scuola e ora sono in Sraova I spend seven months in Serbia, in every country I walk, so for the six days in Serbia and Bulgarian border and another Turkian in Bulgaria seven days, walking in the jungle, not have food, not have everything, it's very difficult, very difficult, for me money no problem, just for me big problem time spent, so I'm young, I need education. Angry police fighting, take the phone, take the money, everything, take the jacket, jumper, shoes, everything, well a lot of organization for refugee business making, and some a lot of people making for refugee business in Europe country, a lot of money sent for refugee using another people for business, no for health, just open the border, I like it open the border, no I like it, just not angry border, just not, every country, no I like it border, no I like it border, every border, every country no have border. I'm sorry, but I don't want to be an emperor, that's not my business, I don't want to rule or conquer anyone, I should like to help everyone if possible, Jew, Gentile, black man, white, we all want to help one another, human beings are like that, we want to live by each other's happiness, not by each other's misery, we don't want to hate and despise one another, in this world there's room for everyone, and the good earth is rich, and can provide for everyone, the way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed, we have developed speed, but we have shut ourselves in, machinery that gives abundance has left us in want, our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind, we think too much and feel too little, more than machinery, we need humanity, more than cleverness, we need kindness and gentleness, without these qualities life will be violent, and all will be lost, the aeroplane and the radio have brought us closer together, the very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all, even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people, to those who can hear me I say, do not despair, the misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress, the hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder, don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts, You are not machines, you are not cattle, you are men, you have the love of humanity in your hearts, you don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty, in the 17th chapter of St. Luke it is written, The kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness, you the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power, let us all unite, let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie, they do not fulfill that promise, they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise, let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Post-